ok quindi dovrebbe essere attiva direi che possiamo iniziare magari se qualcuno gentilmente come sempre mi dà un feedback magari usando il canale Slack live lecture che si sente così possiamo partire ok perfetto grazie mille ok bene allora continuiamo come abbiamo detto queste prime due settimane sono dedicate a fare solamente lezione poi dalla terza settimana andremo in laboratorio virtuale o in presenza per chi potrà e se si potrà vista la situazione comunque attendiamo poi aggiornamenti quindi noi guardiamo queste slide che come sempre trovate già sul portale della no scusate sul git usiamo il nostro github nel repository del materiale del corso e oggi guardiamo queste slide che parlano di oggetti e funzioni che sono due elementi estremamente importanti da capire e da saper usare in javascript sono un po' il fulcro di tutto il linguaggio ma quindi passeremo tutte e tre le ore di questa mattina su questi argomenti facendo anche un po' di esercizi diciamo così live provando mentre spieghiamo come questi funzionano oggi per la prima volta proviamo anche l'ambiente di sviluppo che vi ho chiesto di installare che è il Visual Studio Code che ci consente di lavorare un po' più agevolmente rispetto al Python Tutor che è un tool sostanzialmente didattico che useremo ancora un attimo oggi per dare un'occhiata appunto a come funzionano gli oggetti ma fondamentalmente poi si esaurisce lì ok se avete dubbi o domande come sempre scrivete pure sul canale Live Lecture di Slack oggi ho due schermi quindi la cosa dovrebbe funzionare meglio in più lo Slack ce l'ho separato quindi non dovrebbe comparire e disturbarci durante la registrazione quindi noi parliamo di oggetti oggi funzioni che sono forse l'argomento principale in javascript perché javascript è fortemente basato sulle funzioni e tra l'altro hanno anche una peculiarità abbastanza diciamo unica del linguaggio che è quella che essendo che sono elementi che creano degli scope separati dal resto c'è da gestire tutta una questione relativa alla visibilità delle variabili quando appunto annidiamo funzioni e così via che si chiama Clojure e dobbiamo capire bene come funziona perché ogni tanto ci servirà ad interpretare correttamente il codice javascript in situazioni un po' complicate e per ultimo diciamo vi do qualche indicazione su come gestire le date giusto non perché sia un argomento così fondamentale ma perché programmando in javascript visto che siamo orientati al web a interagire con l'utente eccetera è un elemento che di solito crea un po' di difficoltà e quindi dare qualche indicazione su come gestire le date che quasi sempre in quasi tutti i programmi sono da gestire in una forma o in un'altra questo tipo di programmi su web allora è bene diciamo avere almeno delle linee qui da riguardo cominciamo dagli oggetti e attenzione qui noi parliamo di oggetti ma dovete dimenticarvi gli oggetti scusa gli oggetti come avete visto come li avete visti in altri linguaggi di programmazione oggetti cioè non sono gli oggetti tipo java o tipo c++ qui gli oggetti possono esistere senza una classe quindi non c'è il template io scrivo il mio codice definisco come è fatto l'oggetto e poi ci sono le istanze qui gli oggetti possono esistere senza classi poi a un certo punto in javascript con qualche trucco diciamo sono state introdotte le classi però fondamentalmente gli oggetti javascript non partono da un template unico che è appunto la classe per essere creati vengono creati direttamente e in più sono dinamici questo è simile a molti altri linguaggi di scripting cioè voi li create partite con un certo insieme di metodi un certo insieme di proprietà e poi mano a mano che andate avanti nella diciamo nel vostro programma potete aggiungere togliere cancellare ridefinire proprietà metodi e così via quindi sono completamente dinamici e non lo state facendo sul modello dell'oggetto cioè non state cambiando la classe qualunque possa essere in javascript che comunque diciamo appunto non esiste nel concetto tradizionale della programmazione oggetti degli altri linguaggi ma lo state facendo sulla specifica istanza di quell'oggetto in più non ci sono metodi di controllo dell'accesso a queste proprietà a questi metodi cioè è tutto pubblico sapete che c++ java eccetera potete definire proprietà metodi protetti privati protetti se sono ereditate eccetera ma qui è tutto pubblico quindi e in più di fatto non c'è differenza tra proprietà e metodi per come funziona javascript perché vedremo che alla fine i metodi sono delle proprietà che puntano a delle funzioni e quindi semplicemente richiamiamo con la parentesi tonda e sono esattamente come delle proprietà possiamo assegnare perché le funzioni possono essere assegnate e questa è proprio una delle peculiarità di javascript e quindi di fatto sono solo metodi che anziché puntare a un array un valore particolare puntano a una funzione quindi un oggetto è un insieme non ordinato di proprietà nel senso che non c'è uno specifico ordine come nell'array sì a parte che l'array è un po' particolare però diciamo se l'array è indicizzato con dei numeri 0 1 2 3 possiamo specificare un ordine e qui non c'è quindi ogni proprietà ha un nome una chiave cioè il valore che serve ad accedere a questa proprietà e poi un valore se glielo abbiamo assegnato come nel caso delle variabili può essere undefined oppure può essere un valore che abbiamo assegnato tramite il nome quindi la chiave possiamo accedere al valore corrispondente quindi assegnarlo cambiarlo e usarlo eccetera quindi come creiamo un oggetto beh la sintassi è piuttosto semplice perlomeno ci sono diversi sintassi questa è la più semplice apriamo una graffa e scriviamo chiave due punti valore quindi nome due punti valore quindi esempio point uguale ovviamente in point ci sarà un riferimento come vedete qui a destra all'oggetto e l'oggetto non è un array ma è un appunto un oggetto un oggetto in cui c'è chiave valore chiave valore nome valore nome valore se vi piace di più chiamarlo così ecco la sintassi che potete utilizzare è quella di scrivere direttamente il nome della chiave così senza alcuna virgoletta oppure con le virgolette dipende un po' dai casi se la chiave non ha bisogno cioè può essere interpretata correttamente come chiave del linguaggio javascript quindi non ha caratteri particolari strani e così via per esempio non ha uno spazio o cose di questo tipo possiamo scriverla direttamente altrimenti dovremo utilizzare una sintassi più attenta quindi usando per esempio le virgolette il valore può essere qualsiasi cosa quindi qui a destra le virgolette ci sono come valore perché volevamo una stringa quindi se non mettiamo le virgolette chiaramente ci riferiamo a una variabile con quel nome se invece mettiamo le virgolette stiamo creando una stringa oppure un numero o qualsiasi altra cosa che abbiamo visto l'altra volta boolean piuttosto che undefined piuttosto che null piuttosto che un riferimento a qualsiasi altro tipo di oggetto e quindi può essere un riferimento ad un array un altro oggetto e anche una funzione come vedremo un pochettino più avanti quindi i nomi sono identificati da delle stringhe quindi come abbiamo visto prima c'era autore titolo for per chi pagine eccetera devono essere unici ovviamente perché se non sono unici chiaramente non abbiamo la possibilità di andare a selezionare quale dei valori ci interessa sono creati nel momento in cui l'oggetto viene inizializzato ma possono anche essere manipolati dopo come si fa a crearli dopo semplicemente come facciamo in javascript a creare una nuova variabile creiamo una nuova proprietà e gli assiediamo un valore oppure c'è l'operatore delete che ci consente di cancellare sia le proprietà sia anche le variabili ma dicevo sulle variabili non è buona norma utilizzarlo i valori possono essere qualsiasi cosa quindi immagazzinati all'interno dell'oggetto possono essere tipi primitivi quindi numeri string eccetera possono essere riferimenti a qualsiasi altra cosa array oggetti funzioni nel momento in cui sono funzioni diventano quindi metodi perché una proprietà che è richiamabile di un oggetto di fatto è quello che noi tradizionalmente chiamiamo metodi come si fa ad accedere alle proprietà c'è la notazione col punto o anche quella con le parentesi quadre quindi book è l'oggetto autore e quindi stringa voglio utilizzarla book.author questa è una delle sintassi può anche esserci quella con le parentesi quadre quindi la differenza tra gli array e gli oggetti in javascript è un po' fine nel senso che appunto potendo usare questa sintassi con le parentesi quadre di fatto un oggetto è come se fosse un array indicizzato non da numeri ma fondamentalmente da chiavi che sono string chiaramente nel momento in cui le chiavi come dicevamo prima contengono caratteri speciali eccetera quindi per esempio tipicamente lo spazio l'unica sintassi utilizzabile è questa perché se scrivessimo uguale book.chapter spazio pages il parser di javascript ci darebbe un errore ecco tanto per evitare appunto di fare troppo i noiosi io ho preso questi esempi facendo semplicemente cut and paste quindi copia e incolla dal dalle slide quindi proprio i pdf che avete voi e volevo farvi vedere qualcosa direttamente live quindi per ora possiamo ancora farlo perché il codice non è troppo complicato e quindi vedete come funziona book book è un oggetto anzi scusa contiene un oggetto e quindi sarà un riferimento ad un oggetto questo è il modo con cui questo python tutor ci rappresenta gli oggetti e appunto con le chiavi a sinistra e valori a destra e vedete che è la chiave appunto chapter pages in cui a cui assegniamo un array creato lì così seduta stante nel momento in cui creiamo l'oggetto e vedete che c'è un riferimento all'array e poi se hanno un pages assegniamo book chapter pages chiaramente punta allo stesso oggetto perché dicevamo un'altra volta sono riferimenti scusate ho detto oggetto intendevo array poi appunto la differenza è un po' fine però allo stesso array perché abbiamo creato un array se abbiamo creato un oggetto sarebbe stato un oggetto se io avessi scritto book potete fare tutte queste prove adesso ne facciamo una giusto così per curiosità ma se scriviamo chapter.pages chiaramente non si vede ecco viene fuori un expected identifier perché pages diventa separato da chapter e chiaramente non l'interprete non è più in grado di capirlo e ovviamente non funziona neanche in questa maniera perché c'è una stringa non attesa appunto la sintassi è quella delle parentesi quadri vi invito nei vostri programmi a non fare pasticci in questo senso c'è che non va chapter pages ah sì c'è il punto si fa senza il punto quindi non fare troppi pasticci nel senso cercare di evitare situazioni troppo complicate perché a meno che le chiavi non le decidiate voi e quindi dovete usare quello che arriva insomma cerchiamo di mantenere un certo ordine più che altro per voi per riuscire a come dire gestire nella maniera più leggibile il codice che andate a a creare quindi la sintassi con le parentesi e quadre di fatto sembra appunto un array c'è una domanda ok c'è un metodo di accesso che consigliato uno vale l'altro ma il metodo che consigliamo è tendenzialmente quello col punto nel momento in cui l'oggetto è semplice no quindi perché perché viene più facile da scrivere in un editor c'è c'è la come si chiama la il completamente automatico se è un buon un buon ambiente di sviluppo no quindi scrivete punto e automaticamente vi propone la lista dei delle proprietà dell'oggetto e così via con le parentesi quadre invece dentro potete scriverci quasi quello che volete però dicevamo che la sintassi con le parentesi quadre è quasi come se fosse un array solo che a differenza di mettere un numero tra parentesi quadre mettiamo una stringa questo è quello che va sotto il nome di array associativo che esiste in molti altri linguaggi tipicamente di scripting cioè come chiave di un array possiamo usare come indice di un array possiamo usare qualsiasi cosa in questo senso c'è la differenza tra array e oggetto generico in javascript è appunto fine nel senso che nel momento in cui mettiamo dei numeri sostanzialmente abbiamo un array nel momento in cui lo creiamo direttamente con le quadre partiamo da un oggetto array anche se appunto non c'è questo concetto di classe quindi è una cosa un po' particolare che non approfondiremo troppo perché poi a livello pratico non ci serve nel momento in cui partiamo con le parentesi graffe abbiamo un oggetto di quelli di cui stiamo parlando adesso quindi nel momento in cui impostiamo il valore per una proprietà che non esiste la creiamo sia con la sintassi con le parentesi quadre sia con la sintassi punto se è consentito farlo perché appunto questo è un valido identificativo e quindi non ha per esempio lo spazio in mezzo eccetera possiamo anche cancellarlo diciamo così in caso di necessità però diciamo che la cancellazione è di solito un evento abbastanza raro per lo meno per un oggetto magari per un array no perché magari l'array si vuole far crescere diminuire eccetera ma per l'oggetto è abbastanza raro ecco è possibile e questo è importante ricordarselo usare anche una variabile per andare a decidere come si chiama la proprietà dell'oggetto che vogliamo creare oppure a cui vogliamo accedere questo ci tornerà utile l'abbiamo visto in particolare anche l'anno scorso quindi lo sottolineiamo parecchio perché diciamo è una sintassi che ci consente di di evitare di scrivere tanto codice nel senso che per esempio abbiamo tre elementi nell'interfaccia grafica da gestire si chiamano a, b e c li vogliamo mantenere il cui valore vogliamo mantenerlo in un oggetto e allora anziché scrivere il codice per il caso a a due punti anzi a aperta quadra virgolette eccetera uguale oppure creiamo l'oggetto e nell'oggetto scriviamo aperta quadra a chiusa quadra due punti con il valore che vogliamo mettere e quindi dove scrivere tre volte lo stesso codice uno per a uno per b uno per c possiamo semplicemente avere il valore che ci interessa dentro una variabile e scrivere una sola volta per tutte questo codice e fare in modo che funzioni per settare una proprietà qualsiasi il cui nome è impostato dentro una variabile quindi questa sintassi ricordiamo ce la può anche essere più complicata nel senso che dentro le quadre posso anche mettere espressioni javascript però diciamo questo è già molto meno utile perché si presta a problemi errori di programmazione e così via quella sopra invece è utile in specifici casi per evitare di duplicare codice questo è sempre un bene quindi occhio che le due sintassi per esempio quella sopra book virgolette title e book senza virgolette title non sono equivalenti quella sopra è equivalente a book punto title cioè accediamo alla proprietà che si chiama title quella sotto andiamo a cercare nell'oggetto book una proprietà il cui nome è contenuto nella variabile title che non è la stessa cosa perché dipende da cosa c'è nella variabile title e deve esistere una variabile title ok quindi chiaramente se in title ci fosse una stringa author sarebbe equivalente alla precedente però non è possibile saperlo in anticipo e anche l'utilità di questo sistema e non c'è un equivalente col meccanismo del punto cioè non posso scrivere book punto che so aperta qua da title come avevo scritto prima e non funziona c'è solo questo equivalente nel momento in cui creiamo l'oggetto ecco nel momento in cui creiamo possiamo usare questa sintassi ok attenzione che nel momento in cui facciamo accesso ad una proprietà che non esiste ci viene ritornato undefined e direi ancora più grave attenzione che nel momento in cui facciamo accesso ad una proprietà di un qualcosa che pensiamo sia un oggetto ma in realtà è undefined ci viene fuori un errore quindi dobbiamo fare tutti i controlli del caso quindi verificare che il valore sia truthy come dicevamo l'altra volta anche un oggetto vuoto ci dà truthy dobbiamo fare attenzione quindi se se non è undefined possiamo provare ad andare a cercare la proprietà all'interno dell'oggetto se dunque c'è una domanda prop e title in questi esempi devono essere stringhe torniamo indietro prop e title no dovrebbe funzionare anche con con i numeri possiamo poi sperimentarlo credo che funzioni non sono sicuro però proviamo a fare la sperimentazione quindi grazie per averci aver sottolineato questo aspetto facciamo una prova vediamo cosa succede sì non devono essere necessariamente stringhe possiamo avere come chiave anche dei numeri come vedete ok dove adesso siamo usciti dal schermo intero non mi funziona l'f11 va bene ok quindi dicevamo attenzione se non esistono le proprietà un modo per verificare adesso rispondiamo alla domanda un modo per verificare che la proprietà esiste o no è andare a vedere se è undefined quindi dove si specifica il nome dell'oggetto l'oggetto non ha un nome questo è una cosa un po' che magari all'inizio ci lascia un po' perplessi no cioè il nome non esiste cioè qui non c'è scritto object è il nome della classe perché non esiste la classe questo è javascript non esiste la classe il nome se proprio vogliamo dire il nome il nome è le variabili che contengono un riferimento a quell'oggetto che possono essere uno due mille a seconda di cosa abbiamo scritto nel codice quindi facciamo facciamo questa prova appunto let num uguale no prop facciamo così prop abbiamo scritto prop nel codice e scriviamo author quella sintassi vuol semplicemente dire che io posso scrivere così quindi prop Enrico ecco e mi ritroverò prop sì prop questa è la variabile diciamo che ho definito prima e qui però mi ritrovo author cioè il valore che ho dentro proprio quindi il nome dell'oggetto se proprio lo vuole chiamare nome è ciò che viene prima della della parentesi graffa però gli oggetti non hanno un nome nel senso non hanno il tipo che sarebbe il nome della classe negli altri linguaggi di programmazione questa è proprio una peculiarità di javascript e bisogna farci l'abitudine no sono tutti oggetti già istanziati senza avere la classe ok ecco per evitare queste sintassi un po' particolari nel momento in cui andiamo poi rispondo a verificare se esistono le proprietà possiamo usare quella sintassi con l'operatore e commerciale e commerciale che abbiamo visto l'altra volta per evitare di doverci fare tutti gli if e dover fare queste prove per evitare di accedere a qualcosa che non è definito no quindi book author surname non c'è mi viene messo undefined ma book author c'è no che book author c'è se andiamo a vedere book author è Enrico no quindi diciamo book author book author è Enrico book author surname non c'è no e quindi mi viene fuori undefined occhio che se però scrivo first quindi faccio un'ulteriore differenziazione c'è un un errore perché non posso andare a cercare una property di undefined però se io scrivo come prima no book author and then book autosurname and then book autosurname andiamo a capo ok adesso il codice perlomeno non si pianta più cioè non c'è l'eccezione che c'era prima no e quindi diciamo che se faccio attenzione nel momento in cui faccio queste operazioni con la doppia e commerciale mi evito di fare tutti gli per verificare che la proprietà esiste chiaro che viene fuori undefined cioè si ferma nel momento in cui è undefined e non è che posso andare avanti però almeno non viene fuori l'eccezione quindi in qualche modo ho gestito il problema ci sono un paio di domande esiste un garbage collector o possiamo usare delete per eliminare l'oggetto grazie sì volendo può usare il delete però javascript ha il suo garbage collector quindi nel momento in cui non ci sono più riferimenti riferimenti prima o poi la memoria viene liberata e come in tutti i linguaggi di script che hanno un garbage collector chiaramente bisogna cercare di usarlo con moderazione nel senso che se creo centomila oggetti e poi li libero quindi libero i riferimenti a questi oggetti non è che mi posso aspettare che all'istante successivo il garbage collector abbia già girato e sia tutto libero quindi cerchiamo di usare la memoria in maniera oculata direi se voglio creare un oggetto uguale a book senza dover scrivere il codice basta che scrivo let a uguale book no ecco adesso vediamo come creare un nuovo oggetto però se io scrivo così ecco questo è proprio il tool perfetto per visualizzare che cosa succede il riferimento allo stesso oggetto se creasse un oggetto senza riferimento come lo posso utilizzare non lo posso utilizzare nel senso che questo è un oggetto senza riferimento e lì è come se scrivo pippo uguale c no se scrivo pippo non non l'ho usato no e quindi in teoria si potrebbe passare come un parametro una funzione giusto questo sì 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 certo tutto ciò che passo come parametro però l'ho passato come parametro quindi il riferimento è implicito nel senso che questa espressione ritorna un riferimento a un oggetto semplicemente qui non viene visualizzato vabbè questo tool è un po' così no avrebbe potuto crearmi un oggetto vuoto e basta no non me lo fa e quindi adesso così almeno mi fa vedere no questo è l'oggetto vuoto e una volta che un'espressione che mi ritorna un oggetto vuoto posso usarla come voglio in qualsiasi posto dove posso usare un oggetto no quindi posso chiaramente passarla ad una funzione o farne tutto quello che voglio dove posso usare un oggetto ok poi adesso vediamo come creare il duplicato dell'oggetto tra pochi istanti come faccio a girare sulle proprietà for in sì allora rispondiamo alla domanda che ancora sul argomento prima come faccio a usare questa catena di doppio commerciale cosa succede sì succede che l'ultimo che è definito no l'ultimo che è definito è quello che viene assegnato alla variabile a sinistra fate pure poi un po' di prove però se noi facciamo book author surname ok quindi ah no scusate ragione adesso questo author doveva essere un oggetto no author doveva essere un oggetto perché chiaramente era un po' che era una proprietà su una stringa no quindi facciamo così book author uguale oggetto surname due punti facciamo un po' di live coding che è proprio quello che volevamo fare anche per rendere le cose un po' meno noiose no book author surname quindi adesso c'è un nuovo oggetto author punta un nuovo oggetto surname masala giusto e quindi surname in questo momento è undefined perché io avevo messo surname first se no avrei potuto mettere anche direttamente un oggetto come valore e a questo punto vedete l'espressione surname mi fa tutto il giro e mi va a prendere l'ultimo se non è undefined altrimenti ci fermiamo all'undefined e ha segnato l'ultimo della catena diciamo così valido ok for in itera sulle proprietà dell'oggetto ogni tanto ho necessità di fare quest'operazione per esempio prendiamo questo let book eccetera voglio stampare tutti i valori o iterare per qualche motivo sulle proprietà e posso fare quest'operazione quindi adesso cancelliamo un po' di roba prendiamo questo codice di cui ho fatto come avete visto copia e incolla diretto for prop in book questo è l'in ricordatevi dicevamo l'altra volta in per le proprietà e abbiamo detto no per gli array off per gli array anche gli array hanno delle proprietà quindi diventa un pasticcio se voi fate console log qui vediamo così intanto ripassiamo quanto abbiamo fatto l'altra volta il back tick che è il template literal dentro cui possiamo mettere dollaro aperta graph con delle espressioni javascript di solito delle variabili o qualcosa di semplice perché altrimenti diventa tutto complicato quindi scriviamo delle stringhe nome della proprietà uguale il suo valore book aperta quadra prop ecco il const avrei potuto anche scrivere let non c'è problema funziona anche con let qual è la differenza la differenza l'altra volta abbiamo detto cerchiamo di usare const tutte le volte che è possibile let solo quando sappiamo che dobbiamo modificarlo perché funziona il const è un po' curioso questo questo sì perché qui facciamo tre giri all'interno di questo ciclo quindi facciamo tre giri e ogni volta prop viene riassegnato però prop non è lo stesso prop che viene riassegnato tre volte il prop ad ogni giro viene ricreato per questo funziona il const perché in realtà sono tre prop diversi ogni giro dei tre viene riassegnato e la stessa cosa che vi capita adesso scrivo qui per comodità però quando per esempio in c fate così no anzi in no in c in c è diverso ci siamo aperti e qui in javascript viene viene ricreata la variabile col nuovo valore e quindi è leggermente diverso dal c dopo la prima iterazione non potesse essere modificato no e javascript funziona un pochettino diversamente e quindi funziona funziona in questa maniera se invece scrivete un ciclo diciamo classico i minore di 3 i più più quindi console log i ho messo il punto virgola qui che è di troppo cosa che ha i più più questo è normalissimo ciclo for e chiaramente qui il cost non funziona no perché perché al giro dopo se no non so più qual è la la variabile deve essere deve essere modificata della stessa perché altrimenti non riesco a tenere il valore però nel momento in cui giro in questa maniera viene creato un nuovo riferimento cioè viene creato una nuova variabile che contiene riferimento alla nuova proprietà ok quindi abituiamoci a vedere anche questa sintassi perché appunto è abbastanza peculiare di javascript usiamo const dovunque possibile e incluso in questi casi in cui sembra anche un po' strano ok posso farmi ritornare tutte le chiavi sotto forma di un un array chiavi o chiavi valori quindi array doppi quindi di due elementi all'interno di un array più grande che contiene tutti tutti i valori e questo è utile per qualche caso particolare diciamo non non ricordiamocelo ma non è che sia così utilizzato quando ci sarà da utilizzarlo lo vediamo invece guardiamo questo caso perché è importante come facciamo a creare il duplicato dell'oggetto quindi prendiamo abbiamo sì dobbiamo mettiamolo a pieno schermo questo e poi andiamo a provarlo nel momento in cui appunto facciamo un quale come abbiamo visto prima abbiamo solo riferimento allo stesso oggetto se voglio creare un nuovo oggetto devo fare qualcos'altro devo usare una funzione apposta in parole povere cioè oggette che è un oggetto predefinito in javascript così come array così come altre cose perché vedremo mano a mano che ci servono punto assign crea un oggetto vuoto con l'aperta e chiusa graffa e poi questa questa funzione assign prende l'oggetto a sinistra ci copia dentro tutte le proprietà dell'oggetto a destra quindi l'oggetto a sinistra è sicuramente nuovo perché io l'ho creato qui in questo istante e poi ci viene copiato tutto quanto c'è nell'altro oggetto tra l'altro posso anche prendere più oggetti come parametri quindi e fonderli insieme quindi assegna tutte le proprietà di source a target il target può anche essere un oggetto esistente non necessariamente vuoto e quindi fa anche la fusione e ritorna l'oggetto target dopo la modifica comunque va a modificarne i valori quindi se io ho già il riferimento va bene così se invece non ce l'ho come nella slide precedente perché l'ho creato qui e qui appunto come diceva prima il vostro collega lo passo come parametro una funzione però questa funzione se devo poi utilizzarlo deve ritornarlo e in effetti me lo ritorna quindi occhio che viene fatta quella che viene chiamata shallow copy cioè una copia non profonda cioè non ricorsiva diamo sempre un'occhiata quindi c'è book è un oggetto che ho creato poi un altro oggetto study study che ha una proprietà che ha un riferimento a book io faccio una copia di study con quella sintassi che ho visto prima quindi nuovo oggetto vuoto viene riempito da assign study ritornato come study 2 chiaro che l'oggetto è doppio quindi c'è un altro ma il riferimento è copiato così com'è come se avessi fatto uguale con l'assegnamento di un normale oggetto come prima quindi non è che mi ha duplicato l'oggetto autorenrico pages 340 quindi in questo senso è shallow cioè poco profondo quindi occhio quando andate a volete creare una copia di un oggetto va bene ma i riferimenti sono copiati semplicemente assegnandoli non creando copie di quello che è puntato dal riferimento ok abbiamo detto che può fare il merge va bene quindi appunto se ho book che esiste già title ci aggiunge title insomma però queste sono cose diciamo che mettiamo qui per completezza può anche prendere più di un oggetto come vi dicevo prima queste cose basta sperimentarle un pochettino e peraltro appunto non è che servano poi così tanto ci focalizziamo sulle cose importanti quindi cerchiamo di sottolineare sempre le cose importanti copia con l'operatore spread notate questo non è s6 almeno s9 e quindi è necessario una versione di javascript più recente o quantomeno è necessario che ci sia o fare il transpiling quindi qualcuno l'abbia tradotto nella versione più vecchia cioè interpreta la nuova sintassi e ci scrive automaticamente del codice che funziona sulla versione più vecchia quindi di fatto che ci scriverà un foro apposto un meccanismo che fa la stessa cosa che fa la nuova sintassi oppure dobbiamo avere il polyfilling quindi avere un qualcuno che ci abbia definito l'operatore tre puntini sugli oggetti e ci consenta di farlo funzionare anche se la versione più vecchia perché qualcuno ha scritto una libreria o qualche cosa che crea questa nuova funzionalità quindi vi ricordate i tre puntini spero li abbiamo visti l'altra volta che di fatto espandono nei vari elementi l'altra volta l'abbiamo visto sull'array e dalle S9 quindi dall'ecma script 9 versione 9 espandono anche le varie proprietà degli oggetti quindi funzionano anche sugli oggetti non solo sugli array quindi se io appunto book author pages e poi title quindi definisco un nuovo oggetto mi ritroverò dentro le proprietà espanse dell'oggetto quindi non il riferimento all'oggetto book come se invece tolgo i tre puntini è un riferimento ad un oggetto book quindi mi ritrovo con due oggetti cioè con l'oggetto di prima e nel nuovo oggetto il riferimento al vecchio qui invece è un nuovo oggetto con una copia dei valori quindi basta fare un po' di prove notate che funziona sia a destra dell'assegnamento quindi espandendo e poi assegnando sia a sinistra quindi se io assegno un oggetto con una certa serie di proprietà e alcune di queste proprietà le voglio raggruppare in un oggetto posso farlo usando l'operatore spread a sinistra esattamente come era su di array ok quindi basta fare un po' di prove a e b sono già messe da parte e add in others viene creato un nuovo oggetto che conterrà c e d cioè tutto quello che non è già specificato ogni tanto è utile sono sintassi che ci risparmiano di scrivere tanto codice se non avessi questa sintassi cosa dovrei fare dovrei fare un meccanismo che va a fare un for su tutte le proprietà dell'oggetto a destra e se la proprietà non è nell'oggetto a sinistra vado a creare un nuovo oggetto insomma scrivo 5-6 righe di codice con 3 puntini ho risolto il mio problema javascript da un certo punto di vista è strano in certe cose però da un certo punto di vista è anche molto potente soprattutto le ultime versioni c'è l'operatore in da solo quindi non il for in che mi dice se una proprietà è all'interno di un oggetto da usarsi solo con gli oggetti e non con gli array quindi c'è una domanda anche con lo spread fa una copia e non una reference sì esatto lo spread itera torniamo indietro itera sulle proprietà quindi fa sempre una copia certo che se quella proprietà può una di quelle proprietà un riferimento a qualcos'altro itera e copia riferimento come abbiamo visto prima sempre shallow quindi non profondo però itera e crea una nuova un nuovo oggetto oppure itera sulle proprietà dell'oggetto esistente a seconda che sia a destra o a sinistra dell'assegnamento l'operatore in posso andare a vedere se author in book quindi è una proprietà di book true se poi la cancello non c'è più va bene banale occhio che non funziona così sull'array b in v ci dà false b in mat che è un oggetto predefinite invece questo è un oggetto una proprietà questo ci dà true quindi occhio che queste sitas che funzioni in tanti altri linguaggi di script in javascript non funziona sugli array per esempio in python funziona sugli array ma qui no quindi è sempre da fare attenzione a queste cose bisognerà un po' prenderci l'abitudine ogni linguaggio alle sue peculiarità quindi cercando di rassumere un po' la questione degli oggetti per creare un oggetto metodi equivalenti tutti equivalenti i primi preferiti perché sono più semplici da leggere più intuitivi apriamo una graffa e ci scriviamo dentro oppure facciamo l'oggetto vuoto apriamo e chiudiamo una graffa oppure possiamo usare il costruttore dell'oggetto object che è predefinito in javascript quindi new object aperto e chiuso tonda oppure con un metodo statico dell'oggetto object create eccetera oppure ultimo che vediamo poi tra un pochettino e proviamo anche a usarlo poi in un esercizio alla fine usando una funzione costruttore ma dobbiamo prima aver parlato di funzioni quindi diciamo che a noi onestamente per creare un oggetto ci basta la sintassi aperta e chiusa graffa e diciamo che la risolviamo andiamo a vedere le funzioni se avete dubbi o domande ovviamente fermatemi nel senso che scrivete su slack io guardo e mi fermo le funzioni sono un elemento importantissimo di javascript l'abbiamo scritto qui in rosso in javascript funziona tutto con le funzioni perché vedremo che ci servono a fare di tutto sono tra l'altro degli oggetti esse stesse e questo vuol dire che possiamo passarle ritornarle gestirle come se fossero qualsiasi altro tipo primitivo in javascript quindi possono essere passate come parametro ritornate da una funzione possono essere assegnate una variabile e così via quindi tutte cose ecco queste sono un po' peculiari di javascript a meno che non andate a prendere un linguaggio che è proprio orientato che so magari alla programmazione funzionale eccetera sono caratteristiche che di solito non trovate in altri linguaggi o se le trovate sono estremamente macchinose no si in c si può fare puntatore a funzione però gestirlo è di una macchinosità notevole no invece qui è proprio una cosa naturale anzi è il modo naturale di programmare con javascript anche perché poi la prossima volta parliamo della programmazione asincrona e programmazione asincrona vuol dire che ad un certo punto qualcuno finisce deve chiamare qualche pezzo di codice e questo pezzo di codice è necessariamente una funzione ok quindi ecco una funzione in javascript crea un blocco di codice con uno scope privato quindi le variabili sono visibili solamente all'interno della funzione perlomeno le variabili di cui abbiamo parlato l'altra volta quindi non parliamo del var eccetera questa aperta chiusa graffa vedremo la sintassi lì c'è uno scope e come come in c quando usciamo dalla funzione perdiamo la possibilità di accedere allo scope con una piccola differenza che vedremo poi più avanti che è la peculiarità di javascript che sono le closure ma tra poco ne parliamo quindi le funzioni come tutte le normali funzioni prendono i parametri e danno un valore di ritorno un solo valore di ritorno ma vedremo che poi con qualche trucco riusciamo anche a ritornare più valori basta ritornare un array e così via e se stesse sono oggetti come si definiscono le funzioni anzi dichiarano le funzioni bene sintassi classica c'è una parola chiave si chiama function function nome diamo un nome do diamo i parametri apriamo delle graffe e scriviamo quello che deve fare la funzione quindi funzione quadrato aperta tonda x quindi il parametro x non ha un tipo come sempre come abbiamo visto finora il tipo ce l'ha il valore che viene inserito quando viene passato e poi farà qualcosa let y x per x return y n uguale square 4 quindi viene creata una funzione e se noi chiamiamo la funzione con la sintassi diciamo potremmo dire tradizionale ci viene ritornato un valore e quindi verrà fuori 16 ok niente di nuovo fino a questo punto i parametri sono una lista di nomi separati da virgola quindi a virgola b virgola c eccetera possono avere un valore di default quindi se non sono passati hanno un valore sono passati per valore ma occhio che valore vuol dire i tipi primitivi nel senso che sono i numeri e le string altrimenti sono i riferimenti anche i riferimenti sono dei valori viene passato il riferimento quindi non è che se passo un oggetto viene passato una copia dell'oggetto viene passato il riferimento all'oggetto tutto ciò che non viene passato non crea un errore come in altri linguaggi quindi non è che si dice ah manca un parametro mi fermo semplicemente prende il valore undefined e quindi possiamo nel codice della funzione andare a vedere se il parametro è stato passato o no andando a verificare se il valore è undefined e per esempio segnargli un valore di default oppure fare direttamente così anzi no in realtà così automaticamente prende il valore di default quindi non sappiamo se viene passato o no se invece vogliamo sapere se è stato passato o no dobbiamo prima vedere se è undefined possiamo prendere anche un numero variabile di parametri e questa cosa viene fatta in maniera relativamente semplice tanto per cambiare c'è questo operatore tre puntini che qui prende un nome diverso e questo rest ma sono sempre tre puntini come fa a distinguere i vari casi javascript e capisce il contesto se l'abbiamo usato in un array se l'abbiamo usato in un oggetto se l'abbiamo usato nella lista di parametri di una funzione quindi r è un array sì è un array in cui ci sono tutti gli altri parametri che non so quanti siano però se è un array non è un problema poi me lo gestisco come so gestire degli array con del codice quindi per esempio scorrendo l'array let a of array of r sum più uguale a e quindi che so possiamo provare questo facciamo una prova ops è andato ah no per fare l'incola questo non l'avevo preso facciamo ancora una prova col python tutor quindi ok facciamo let rest così vediamo il valore 11 ok e su molla è semplicemente una funzione ok python tutor chiaramente va bene per vedere gli array e gli oggetti eccetera ma chiaramente nel momento in cui ci sono le funzioni più che appunto scriverci la funzione non può fare ok quindi abbiamo visto function nome parametri posso creare una funzione in maniera anche diversa function senza un nome e quindi devo per forza assegnarla una qualche variabile che sarà riferimento a quella funzione perché poi per usarla ho bisogno di un riferimento come si diceva prima c'è un oggetto vuoto devo creare un oggetto che nome ha e non ha nessun nome e il nome ce l'ha nel momento in cui lo assegno alla variabile a meno che non glielo ho dato negli oggetti non posso dare un nome nelle funzioni ho la sintassi per darlo se voglio ma se non voglio non lo do e quindi devo assegnarla qualcosa oppure posso anche metterlo e assegnarlo comunque a qualcosa perché function crea un oggetto di tipo funzione quindi ha un riferimento alla funzione ovviamente questo è un po' ridondante nel senso che finirà che posso chiamarlo col nome do o col nome fn quindi di solito questo non si vede perché o faccio una cosa o faccio l'altra ecco l'espressione function aperta e chiusa tonda con i parametri poi aperta e chiusa graffa con il codice ritorna un nuovo oggetto di tipo funzione come abbiamo visto un attimo fa sul python tutor e possiamo usare questi riferimenti esattamente come usiamo i riferimenti degli array e degli oggetti e quindi possiamo farne tutto quello che vogliamo quindi se lo assegniamo alla proprietà di un oggetto diventa un metodo sì ok c'è qualcuno che vuole fare una domanda a voce io ho lasciato aperta la possibilità di intervenire a voce ok no se no c'è sempre la chat però per ora non vedo altre domande se accedo se assegno un riferimento a una funzione a un metodo scusate a una proprietà questa è quello che noi chiamiamo metodo io posso poi chiamarle con aperta chiusa se lo passo come parametro a una funzione di solito lo faccio perché voglio che quella funzione venga richiamata ad un certo punto cioè quello che viene chiamato callback in javascript però la cosa è indistinguibile nel senso che è sempre un riferimento a qualcosa chiaramente la funzione si aspetta che venga passato un riferimento a una funzione quindi sa che non la deve trattare come un array per esempio ma la deve trattare come una funzione quindi prenderà il parametro mette aperta chiusa tonda e la chiama però posso passarla come parametro ed è molto semplice anzi si fa continuamente perché appunto essendoci questo meccanismo dell'assincrono di cui parliamo la prossima volta quando succede qualcosa chiamo una funzione che mi ha dato qualcun altro come parametro ecco ultima sintassi che andiamo a vedere per la la definizione delle funzioni sono le cosiddette funzioni arrow cioè freccia in inglese uguale maggiore è la sintassi e questo va assolutamente imparato perché sono estremamente comuni perché molto spesso siccome prendiamo queste funzioni e le passiamo le ritorniamo eccetera abbiamo bisogno di crearle con molta semplicità con una sintassi particolarmente semplice altrimenti il codice diventa estremamente pesante e per le funzioni semplici questa sintassi è estremamente utile quindi parametri freccia graffa con le operazioni da fare e adesso ci concentriamo un attimo su sulle sulle arrow function quindi andiamo a fare a fare una prova con questo codice ancora su python tut poi lo molliamo quindi cosa è successo ah ecco questa è una cosa ecco perché l'avevo fatto che volevo farvi vedere prima che mi dimentichi occhio che in questo codice se noi lo leggiamo da profani adesso arriviamo alla domanda se non la leggiamo da profani diciamo cosa c'è che non va return square per square no cosa c'è che non va cioè se fosse c funzionerebbe tranquillo ecco l'altra volta qualcuno mi ha detto un esempio in cui dobbiamo usare il punto virgola per forza qui vi faccio vedere un esempio in cui il punto virgola invece è stato inserito automaticamente abbiamo letto nelle regole di inserimento automatico del punto virgola da parte di javascript che dopo se return è l'unica istruzione dopo viene inserito il punto virgola e quindi il risultato è che qui non funziona più nulla no cioè forza no non cioè non funziona più perché perché appunto questo questa cosa che viene messa a capo non è più collegata non è più il valore di ritorno no quindi se noi togliamo il la capo magicamente funziona tutto a parte il fatto che qui mi sa che ho incollato doppio ah sì qui era la versione arrow function questo non c'entra niente ok qui funziona no e quindi va bene qui fa l'operazione che che volevamo facesse fa punto fuori sto 256 ok ecco qui vedete l'esempio di arrow function quindi qualcuno mi chiede sarebbe la lambda expression di java e dunque non sono così pratico di java per la verità però dunque le lambda expression diciamo che servono se se conosco bene java sei un po' più esperto di python penso siano abbastanza simili servono fondamentalmente a definire una funzione al volo nel senso senza dover usare tutta la sintassi complicata e potremmo dire secondo me che le arrow function sono abbastanza simili perché alla fine le usiamo in una maniera molto simile quindi appunto come qui no però non abbiamo ancora detto la parte teorica quindi qui abbiamo fatto una prova ecco guardiamo questa slide e poi facciamo le prove nel momento in cui abbiamo le arrow function possiamo ovviamente con questa arrow quindi la freccia definirla in maniera diversa a seconda delle nostre necessità la prima è un arrow function che prende nessun parametro e ritorna nulla niente no quindi sarà return undefined adesso poi guardiamo il codice quindi questo è proprio il minimo ogni tanto dobbiamo semplicemente passare una funzione ad un'altra funzione come parametro perché ci è richiesto di passarla ma noi non vogliamo fare nulla e allora aperta chiusa tonda freccia aperta chiusa graffa fine funzione vuota che non fa nulla oppure parametro addirittura senza le parentesi tonde con l'attività che deve svolgere possono anche esserci più parametri eventualmente anche con i valori default con quello che deve fare scritto nella parentesi graffa e addirittura se buttiamo via la parentesi graffa come fatto qui sotto che era nell'esempio in cui stavamo che stavamo guardando l'espressione ma deve essercene solo una di espressione che viene calcolata a destra della freccia è il valore di ritorno ok se mettiamo le graffe dobbiamo scrivere per forza return perché se no è codice e viene interpretato come codice quel codice non fa nulla come se scrivesse x x x codice valido ma non fa nulla se non metto le graffe nelle arrow function viene interpretato come il valore di ritorno ok quindi dobbiamo poi farci un po' di occhio dunque allora ci sono due domande in questo caso su let cube potevamo solo scrivere function andiamo a vedere il codice let cube function c sì certo sì potevamo fare esattamente quello così sono esempi didattici perché così vediamo un po' tutte le sintassi però visto che poi la usiamo se dopo la usiamo col nome cube tanto vale anche non mettergli un nome fa niente devono essere dichiarate sempre con cost no come ha visto c'è anche il let però diciamo che è sempre la solita storia di prima il const ci aiuta ad evitare di fare pasticci perché se l'interprete a un certo punto c'è d'errore mi chiedo se aveva senso metterci let e se non aveva senso vuol dire che ho trovato un errore nel codice un errore di logica io pensavo di fare una maniera invece c'è qualcosa che non quadra quindi diciamo che è bene di solito dichiarare col const anche perché è un riferimento a una funzione difficilmente cambia creare un duplicato di una funzione che fa la stessa cosa ha meno senso che creare il duplicato di un oggetto creo il duplicato di un oggetto di un array magari c'è una ragione per un certo punto devo fare una copia andarla a modificare eccetera di solito una funzione nel momento in cui la creo non è che dopo vado a modificarla quindi di solito è assegnata cost qui abbiamo fatto appunto un po' di esercizio però diciamo che ci stava tranquillamente il cost come è fatto dopo eccetera qui c'è una funzione dentro e questa è una cosa poi un po' particolare che vediamo c'è differenza a livello di performance memoria tra un arrow function una funzione normale questa a dire la verità è una domanda difficile non lo so non credo onestamente perché entrambe creano un oggetto un oggetto di tipo function e quindi non penso non penso tendenzialmente i problemi di performance di javascript non sono legati a questi dettagli ma sono piuttosto legati al fatto che creiamo tanti oggetti troppi oggetti e così via ecco per esempio se io diciamo eseguo tante volte un codice che mi crea tanti riferimenti ad oggetti diversi tutti uguali oppure mi crea sempre più volte la stessa funzione ma sono oggetti diversi questo può creare un problema a livello di memoria a livello di uso di memoria non tanto a livello del fatto che è una funzione più veloce di un altro ok quindi abbiamo detto ok delle funzioni che di default ritornano undefined se non scrivo return viene ritornato undefined a meno che non sia un error function scritto in questa maniera per cui c'è il valore dell'espressione solo un valore può essere ritornato come dicevamo prima ma occhio che potete ritornare quello che volete quindi questa è una limitazione fino a un certo punto io posso ritornare un array posso ritornare un oggetto posso ritornare anche una funzione e lo vediamo tra poco dunque sono 9.30 sì abbiamo ancora un po' di tempo prima della pausa le funzioni possono essere annidate definite all'interno un'altra funzione ecco questo questo ecco è una cosa proprio da capire bene in javascript perché poi questo ci porta a parlare dello scope delle closure eccetera quindi abbiamo intravisto in questo esempio e torniamo sul python tutor poi basta passiamo al viso studio code io ho definito una funzione questa ipotenusa no sapete vabbè il teorema di Pitagora no è la radice quadrata dei due cateti a e b al quadrato allora a e b devo fare nel quadrato avrei potuto semplicemente scrivere a per a più b per b ma non imparavamo nulla di javascript no invece abbiamo scritto square const e gli assegniamo una funzione e poi la usiamo direttamente dentro la funzione più esterna che abbiamo definito in questa maniera chiamato ipotenusa quindi questa è la sintassi arrow function più compatta che potete avere no parametro unico senza parentesi tonde valore di ritorno unico senza parentesi grafico e così mi avanzo ad iscrivere il return cioè questa questi pochi caratteri creano una funzione con un parametro e il codice per calcolare il valore di ritorno non posso fare due operazioni qui dopo la freccia se devo fare due operazioni due istruzioni devo mettere le graffe per forza devo mettere il return e non ricordarsi di mettere il return è un problema perché poi la funzione ritorna undefined ci abitueremo nei laboratori fate un po' di prove ogni tanto ci sarà qualcosa che non funziona come in tutti i nuovi linguaggi e siamo noi per darvi una mano o lo capite da solo appunto cerchiamo di darvi una mano ci chiedete così via ok quindi abbiamo definito una funzione un'altra funzione c'è niente di male anzi appunto è abitudine abbastanza consolidata in javascript questo però ci porta a capire una cosa a osservare una cosa anzi la funzione più interna possiamo fare come error function possiamo scrivere anche sotto function square eccetera ha lo scope all'interno della funzione più esterna e non può essere chiamata da fuori cioè io dopo nel codice non posso chiamare square al di fuori di ipotenusa no perché perché lo scope è interno è come se avessi scritto let c uguale no il c al di fuori delle graffe della funzione più esterna non esiste perché è perché finisce lo scope attenzione che lo scope vuol dire che possa accedere ciò che è in scope ma anche ciò che è fuori da dentro no quindi se io ho qualcosa da fuori che fuori posso accederlo da dentro questo è come succede tradizionalmente nei vari linguaggi per esempio in c aprite una graffa fate qualcosa ma le variabili fuori dallo scope fuori dalle graffe sono accessibili e il contrario che non è vero da fuori non posso accedere alle variabili dentro lo scope e qui vuol dire anche le funzioni che ho definito dentro lo scope qui c'era la funzione il cui riferimento al cui riferimento si accedeva direttamente dal nome la funzione square e qui ho fatto una variabile che ha lo scope interno alla funzione che quindi non è accessibile all'esterno ed è l'unico modo per accedere a quella funzione quindi per forza quella funzione non è accessibile e quindi questo ci porta a parlare di che cosa succede nel momento in cui io ritorno una funzione che quindi può accedere allo scopo interno della funzione più esterna da una funzione e questo è da capire adesso quindi ci porta a capire il concetto di closure di cui parliamo più in dettaglio in un istante vediamo prima la definizione che è un po' criptica come scritto ma poi cerchiamo di chiarirci bene le idee una closure è un nome dato ha una caratteristica del linguaggio per cui una funzione annidata eseguita dopo che è stata eseguita la funzione più esterna quindi siamo usciti dallo scopo della funzione più esterna può ancora accedere allo scopo di quella funzione più esterna cioè se io ho dato riferimento alla funzione più interna fuori quindi in qualche modo che so ho fatto return di prima ho fatto return square quindi qualcuno può chiamare square di fuori anche se la funzione più esterna è terminata cioè non sto chiamando ipotenusa posso accedere allo scopo di ipotenusa ovviamente dobbiamo vedere degli esempi se no non ci capiamo ecco quindi ogni funzione definisce uno scopo per le variabili dichiarate all'interno della funzione stessa le funzioni all'interno di quello scopo possono accedere allo scopo di di tutte le funzioni più esterne e questa è la cosa importante ogni funzione ricorda lo scopo dove è stato definito anche dopo che la funzione più esterna non è più attiva io qui ritorno una funzione vedete allo è una funzione la ritorno quindi fuori posso usarla e questa funzione si ricorderà lo scopo più esterno cioè che valore aveva avevano le variabili nel scopo esterno che sono ovviamente state usate dalla funzione andiamo a provarlo perché mi sa che se non lo proviamo ecco guardiamo lo scopo prima questo è lo scopo di hello la funzione interna e lo scopo sono le parentesi graffe e sono evidenziato qui lo scopo è la funzione più esterna e sono le parentesi graffe più esterne nella funzione interna uso my name che è una variabile definita fuori del suo scopo definita fuori dello scopo di quella interna bene hello questa funzione interna si è usata fuori si ricorda qual era il valore di tutte le variabili negli scopi esterni se le abbiamo usate ovviamente se non le abbiamo usate tanto non le usa fine quindi la my name andrà fuori dello scopo cioè io qui al di fuori di function non posso scrivere my name non so che nome abbia ma se io chiamo la funzione che mi è venuta mi è stata ritornata da gritter che quindi è questa hello che siccome è stata assegnata ha preso un nome differente questa funzione si ricorda il suo scopo e quindi se la variabile che io ho passato come parametro aveva dei valori diversi quando vado a chiamarla è sempre la stessa funzione cioè viene sempre eseguito il codice di hello ma il risultato è diverso perché si ricorda un valore my name che è il valore della variabile nello scopo esterno che si ricorda che è diverso quindi proviamolo perché altrimenti io a questo punto apro il Visual Studio Code così vi faccio vedere Visual Studio Code e poi facciamo una pausa così chi è curioso diciamo può andare a fare magari nella pausa fare una prova provare a sistemarlo se ci sono problemi mi dice dunque io per far funzionare il Visual Studio Code la prima cosa che vi consiglio è crearvi una cartella da qualche parte sul vostro disco e aprire la cartella quindi io ho creato prima di iniziare esempi live quindi ho creato una cartella nel file system e apro la cartella quindi non ho aperto il file ho aperto una cartella adesso si si è aperto bene poi avevo già messo dentro un file se non c'è il file ne create uno mettete quello che volete e ricordatevi solo di salvarlo come file js quindi test js perché altrimenti non funziona poi come javascript use strict e poi andiamo a giocare con il nostro codice quindi prendiamo l'esempio di prima ok ah c'è l'esempio va bene quindi io tirerei via questo delete così non ci fa pasticci questa non è la manovra migliore di usare il viso studio code ma così inizialmente ci basta poi verso la fine della lezione vi dico anche come migliorano un po' le cose dunque faccio format document ctrl shift i così almeno me lo indenta un pochettino lavoro in maniera un po' un po' con del codice un po' più leggibile bene facciamo una prova allora prima di tutto proviamo a eseguirlo run node io qui ho installato solo viso studio code ho installato prima node con quella procedura che vi dicevo l'altra volta quindi l'ultima versione la 14. questo sia 16 ok il codice è stato eseguito e qui sotto vediamo il risultato la console mi ha stampato hello tom hello jerry ed è la stessa funzione è sempre la funzione gritter tom gritter jerry ma notate che io quando la chiamo non è che quando chiamo hello tom non è che dentro gli ho scritto tom come parametro o gli ho scritto qualcosa perché la funzione che è la funzione hello che è quella che viene ritornata non prende parametri il my name se lo va a cercare dallo scoppio esterno e se lo ricorda ok possiamo anche provare a fare l'esecuzione passo passo eh quindi mettiamo un breakpoint ed eseguiamo run sempre non quindi il codice sì ok si ferma qui no questo ehm allora al primo giro il codice viene semplicemente interpretato nel senso che la funzione se non se non deve far niente non è chiamata non deve far niente diciamo che definiamo no le cose ok ah no scusate mi ha preso ricominciamo se no faccio allora ho sbagliato dovevo metterlo qui no quindi stop ricominciamo l'ho messo qui e in realtà aveva già chiamato questo no io se metto il breakpoint dopo nella funzione ci entro dopo che l'ho chiamata no quindi la prima linea di codice che viene effettivamente eseguita è questa quindi noi facciamo run node ok questa è la prima linea di codice non ho ancora fatto nulla quindi questa linea di codice chiama greeter uso questo bottone quello della freccia in giù così entro nella funzione no usiamo sempre questo così vediamo tutti i passi quindi entro in greeter const my name uguale name name è tom perché glielo ho messo come parametro quindi lui assegnerà my name tom qui a sinistra spunto my name tom poi hello è una funzione quindi non viene eseguita adesso è solo definita quindi non c'è da eseguire il codice perché la funzione non è chiamata in questo momento è solo definita però in hello ci troviamo se andate a vedere a sinistra una un riferimento a una funzione che qui vi viene scritto come f e poi viene ritornata questa funzione ok bene in hello tom troviamo riferimento a una funzione e questa funzione sarà questa questa hello quindi è la stessa che vedevamo prima però adesso qui non la vediamo più perché hello è uscito dallo scope hello è uscito dallo scope non è nello scope globale perché era nello scope della funzione noi però abbiamo riferimento a quella funzione hello che è quella che abbiamo messo noi per nostra scelta in hello tom stessa cosa hello jerry entriamo dentro my name prende questa volta jerry che è il parametro che passo hello di nuovo return hello e in hello jerry ci troviamo un riferimento a un'altra funzione ok a questo punto questo hello tom andrà a chiamare la funzione hello no notate che io non ho chiamato gritter adesso ho chiamato solo hello quindi il debugger mi dice io sto eseguendo questa linea di codice quanto vale my name my name vedete qui a sinistra c'è proprio questo è un debugger specifico per javascript e quindi ha la possibilità di andare a ispezionare esattamente questa cosa che si chiama closure nella closure della funzione c'è my name tom se ricordate che questa funzione ha nelle sue closure quindi nella nella nelle variabili accessibili a quella funzione tom e sono accessibili solo a quella funzione non sono accessibili diversamente eseguiamo e quindi mi fa un return no hello tom e poi io faccio console log e va bene verrà stampato no valori ritorno ok ops forse ho schiacciato un bottone va bene quindi possiamo ancora riprovare un attimo e vi faccio vedere un'ultima cosa poi provate per conto vostro quindi nel momento in cui stiamo ricominciando da capo abbiamo eseguito il dritter tom quindi abbiamo riferimento inello tom a quella funzione se voi andate a esplorare cosa c'è dentro no ci sono tante cose inutili che stiamo a cercare di capire tutto ma da qualche parte deve esserci ecco negli scope c'è la closure che dicevamo prima che è my name tom e questo è quello che c'è inello tom se noi andiamo avanti e facciamo l'altra no inello jerry se andiamo ad aprirla ci troverete negli scope la closure con my name uguale jerry e quindi è chiaro che queste due funzioni sono funzioni che condividono lo stesso codice ma il riferimento alle variabili che usano è diverso sono due closure diverse quindi hanno due valori diversi e sono closure nel senso che sono chiuse e accessibili solo da quelle da quella funzione no quindi la closure di una accessibile dall'una e la closure dell'altra accessibile dall'altra e quindi quando le andiamo ad eseguire ovviamente stampano due cose diverse perché il valore a cui loro possono fare accesso nonostante che la funzione fuori non sia più in esecuzione è quello che loro hanno mantenuto nella closure ultimo commento adesso poi rispondo anche alla domanda per chi di voi vuole pensare in termini forse un po' più vicini a quello che siamo abituati negli altri linguaggi di fatto si sono ricordati il puntatore alla variabile my name e in più non solo il puntatore ma nel senso che si sono creati una copia di un qualcosa che era stato creato nel momento in cui il griter viene eseguito come in C eseguiamo una funzione si crea uno stack frame e quindi c'è qualcosa di allocato da qualche parte con le variabili locali qui la closure è mantenere riferimento a quella variabile locale e quindi l'interprete java sa anche che non la deve deallocare nel momento in cui esce dallo scope questo però è una questiona più di implementazione se vi aiuta bene se no cancellate quello che vi ho detto dunque leggiamo solo le due domande poi facciamo la pausa anzi una domanda nel caso di annidamenti ulteriori viene ricordato solo quello più esterno anche quelli di livello più alto anche quelli di livello più alto cioè tutto ciò che è visibile a livello lessicale nella funzione se viene usato viene ricordato per questo che lo chiamano dove era lexical scope cioè a livello lessicale vuol dire tutto ciò che è annidato a livello di scrittura del codice visibile in quel momento dal punto di vista dello scope dei blocchi quando abbiamo scritto il codice quindi adesso abbiamo fatto un esempio con un'unica funzione più esterna perché diciamo se no complicavamo l'esempio per nulla però tutto ciò che è visibile se usato viene ricordato viene come dire congelato ok e questo sarà importante perché siccome abbiamo detto che javascript non ha un modo per rendere diciamo delle variabili delle proprietà eccetera private questo è l'unico modo quello delle closure per renderle invisibili al resto del codice però io direi che possiamo fare un po' di pausa visto che sono le 10 e quasi le 10 riprendiamo le 10 10 e qualcosina ecco se salvo blocco la registrazione verifico che tutto funzioni e così via ok quindi mi scollego un attimo e chiudo la sessione poi la riapro tra 5 minuti però vi do un po' più di tempo per per fare pause se avete dubbi o domande ovviamente scrivete pure su Slack ok ok la chance stop but Grazie.